Quanto a lungo si devono utilizzare i dischetti? Dopo le prime applicazioni quotidiane o un giorno sì, un giorno no, a seconda del prodotto, e sto parlando in particolar modo degli antietà, non conviene una volta raggiunto il 100% del proprio benessere interrompere e poi ricominciare dopo sei mesi. Quindi meglio usare 100 cerotti sparpagliati nell'anno che non 50 e 50, perché i danni che si hanno nei sei mesi in cui non si utilizzano, danni dell'età, dei radicali liberi che ci demoliscono le cellule, non riusciamo più a recuperarli. Un conto è combattere l'invecchiamento, un conto, ed è impossibile, tornare indietro nell'invecchiamento. Quindi diradateli, utilizzatene il meno possibile finché vi sentite comunque bene, ma non interrompete. Molto meglio adottare uno stile di vita costante che non sbalzi su e giù con o senza i dischetti. Grazie a tutti.